One tongue is enough for a woman. Che cosa intende una persona che recita questo proverbio? Ciao, sono Monica di Impara, l'inglese con Monica.com e nella breve lezione di oggi ti rivelerò il significato del language saying of the week che ho scelto per te per questa settimana. One tongue is enough for a woman means that women talk too much. One tongue is enough for a woman significa quindi che letteralmente una lingua è abbastanza per una donna. In altre parole si sta dicendo che le donne parlano troppo e devo dire che forse un pochino è vero. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto alla prossima lezione con un nuovo English saying of the week e nel mentre ti invito a taggare una persona che ti è venuta in mente recitando questo proverbio. A presto!